3, 2, 1 Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video! In questo video, come avrete letto dal titolo, il mio ragazzo oggi mi truccherà, cioè proverà a truccarmi. E oltre a truccarmi dovrà indovinare anche i nomi dei trucchi. E quando sbaglierai il nome del trucco farà una penitenza. Dai amore, perché non c'hai i peli? Uffa, sei più liscio di me! No, se no, per ogni cosa che sbaglio, con qualcosa mi scrivi qualcosa. Vai! Vai! Non scordatevi di andarci a seguire su Instagram e TikTok, ci chiamiamo in questo modo. Questo sì. Questo. Aia! E nulla, iniziamo col video. No! No! Com'era quello? Cicchini, 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 macaroni, cicchini, macaroni! Allora, questo è il primo trucco. Non si vede un cazzo. Ecco, è questo. E vabbè, la spugnetta. Vai! Un momento. E questa? Vabbè, per il rispargio tutto, vedi? Vai! Fa come te. Ti ho mettato la mano, non te la metto di giro. No, va lì. Power! Va bene? Sì, anche troppo. Oh, senti, tu la devi aprire tutta. Tieni. Filmi. Vabbè. Ok, ora c'è un bravo. Sono bravissimo. Sono bravissimo. Guardi. Da qui, il muoio. Sì, che hai. Da stavo in giro. Ok, eh. No. Non si mi troppo treva, eh. Vabbè, vabbè. Ti senti di nuovo vestito? Di nuovo al bagno. No, è tutto il cuore. E poi, dopo il caio all'ira, eh. Top, eh? No, è. Guardate? Guardate che vedi? Ne ho messo i rocchi Mi mento? Usiamo la bolla gigante Sì, ma... Mi trucca bene, io non mi dà... Vabbè, fai Hai fatto la faccia? Vieni Apriamo un po' queste bolle Per il che... Qui imbamina bene Non, vedi... Vedi... Oh, se il bagno? Hai... No Orgine Non È una mia Non ci sono le 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 Caccia, amore! Che? Un comito! Amore, l'hai messo benissimo! Mi stavo mai, appunto. Eh, ragazzi, l'ho messo meglio di me, l'ho messo da solo. Bene. Passiamo a questo. Ecco qui. Questo. Questo non avevi dito, aveva quegli occhiali. Eh, hai guardato. Che cacchio ne sapevo io. Alla, alla, alla. Eppure che mascara. Sì, è il migliore. Quanto? Ma questo ma che ne so io? Questo. E questo è per le guanti. Sì, ma come si ama? Ma come fai a saperlo? Ma non lo so. Dimmelo. Non posso saperlo. Dio il nome. Colorante. Colorante. Beh. Questo è un colorante. Certo. Con il pennello. Bravo. Tieni colorante. Come si ha? Un po' di punte. Se li sei quasi. Questo. Tanto può. Ah, è l'illuminante. Certo. Eh, le tappelle guardie me lo stai mettendo sotto gli occhi. Qua. Un po' di punte. Vai. Un po' di punte. Vai. Un po' di punte. Un po' di punte. Un po' di punte. Un po' di punte. Ora gli scrivo sulla faccia qualcosa Qualcosa Di povero Allora Dimmelo Non mi scrive così Questo è che Mi viene solo Aspetta ti faccio vedere Sa che non c'è scritto Va bene Cos'è La prima Per fare qualcosa Il triangolo Il triangolo Vabbè quello Il triangolo Dì sì o no Come si chiama Non mi ha rivolto niente Non mi ha rivolto Vabbè però non ho indovinato No Cioè non è un triangolo Vabbè è qualcosa qua Scusa È una linea Non è Vabbè come si chiama Linea Linea è dove si fa Sull'occhio Quindi linea occhio in inglese Occhio linea in inglese Nice Scusa Nice Non è linea Ice E poi Linea come si dice Ma che ne so Via Linea in inglese Vabbè Tava bene La Quindi Tava bene Quindi Hai 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 Liner Hai Hai Liner Hai 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 Liner Hai Occhio linea Cioè Meglio Hai Io Si va per stasera Vai 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 Eccoci Hai Eyeliner Hai Eyeliner No ma questo non mi riesce a minire C'è due parti Eh Io l'ho visto Scusa Come si fa Vaio No Ma come quell'altro non lo uso Io uso Liner Va bene Nel� Delhi No Ehi Bihrima Vimpin Tomo ~? Itb Pai Aa VДа Em CAM G Ti T Leah mi romo raggi ma bella sei aspetta dopo ti finisco io sono sempre bella dai adesso ora qui che Mi fai ridere e ti avevo solo figli così, scusate non arrivi mentre gli fai il trucco Cos'è? Ecco qua non lo so Cioè non leggere? Cioè non c'è? No Ma...on c'è? Che è onde c'è? C'è un rito Per cosa usava? Pescrivete a te Lì? Alguna? Ma risa va bene? Per gli occhi Qua Sì Sì È così grosso? Sì Questa non serve A casa mia è un sugo È troppo grande Vai Ma sotto? O sobra? Andrebbe messo qua Sì No no Questa è un ruble C'è 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 un ruble O che vuole C'è un ruble C'è un ruble C'è un ruble ma è bella Vai Dai, esci Allora, per favore Stai, ferma Mi guardi Ok No No, è tutto scritto Collone Apri l'occhio Che cazzo fai? Mi infili il caderno No, no, perfetto Perfetto, direi Beh, molto bello Vai, dici una cosa Questo è del rosso Non si ama, è rosso Rosso? Ok Venga, signora Gusto No, no, no No Vieni, vieni, vieni Vieni, vieni 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 hai rovinato tutti i trucchi vai madonna non si ha riso direi messo alla grandissima bellissima direi proprio guarda che capolavoro hai fatto ci vuole un po' di ritocchi guarda questa cos'è non leggere oh ma le sa tutte madonna è trascendente la sua sorella prima ci stai chiamando un po' ma non è più che scompa non puoi no 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 grazie a tutti anche la bocca, la liner, guarda me l'ha messo bene ora veste bene ferma prendevo? si prendevo? ferma prendevo? si, prendevo due 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 aria oi? guarda guarda quando世界 ha fatto un ciglio bene ragazzi questo video è finito qui spero vi sia piaciuto se vi mette un bel like e творetevi al canale perché non c'è motivo per lo fare bene ragazzi questo video è finito qui spero che sia piaciuto se si mettete un bel like iscrivetevi al canale perché non c'è un tipo che non attivate la campanella per non perdermi altri video i miei prossimi e noi ci vediamo ciao 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 dai